ciao a tutti un breve video di consigli per gli acquisti ma anche di anticipazioni di quello che sarà il tema che tratterò nel prossimo video come potrete intuire dal libro che vi sto mostrando parleremo insieme del mondo del doppiaggio nel prossimo nel prossimo video il libro che vi sto mostrando fra l'altro è molto carino ho avuto la possibilità di acquistarlo recentemente come l'ho visto in libreria non ho potuto fare a meno di fiondarmi a comprarlo da appassionato del mondo del doppiaggio un argomento fra i tanti legati al mondo del cinema che a me personalmente ha sempre incuriosito e affascinato molto il libro per gli appassionati è davvero molto carino con le biografie dei doppiatori ricco di foto aneddoti curiosità un libro che veramente mi sento di consigliare agli appassionati partiremo perciò da qui dallo spunto di questo libro per parlare un insieme del mondo del doppiaggio secondo me è un argomento sempre curioso e interessante perciò vi saluto vi rimando al video che arriverà spero presto vi auguro una buona giornata o buona serata in base a quando guarderete questo piccolo video vi saluto e salutiamo anche il maestro carpenter alla prossima lunga vita e prosperità ciao a tutti